Gianni Amanna non ci sta. La star turca, nelle scorse ore, è finito al centro di una polemica rovente dopo che ha gettato a terra il cellulare di un fan. L'episodio è accaduto davanti all'hotel delle Palme a Palermo, dove l'attore si trova in questi giorni perché è impegnato a girare le scene di Viola come Il Mare 2. Il filmato è stato postato da numerosi utenti sui social, divenendo rapidamente virale. Guardando il video ci si trova innanzi a un gesto brutto. Tuttavia la vicenda va contestualizzata. Ci ha pensato lo stesso Yamanna a spiegare i dettagli della questione. Ha chiesto scusa al fan a cui ha scaraventato via il telefono? Assolutamente no. Anzi si è scagliato contro di lui ancor più. Ma c'è un ma. Dopo che la notizia è divenuta di dominio pubblico, Gianni Yamanna ha pubblicato una lunga story Instagram, attaccando pesantemente l'uomo al quale ha buttato via il telefono. Secondo la versione del turco, quella persona non era affatto un suo fan in quanto è stata molto maleducata sin dal primo momento. L'attore ha aggiunto che l'uomo non gli ha mai chiesto una fotografia. Anzi ha innescato dei disguidi, rispondendo in maniera prepotente e minacciosa più volte con frasi del tipo, rilassati, stai calmo, non ti farebbe bene. Yaman ha dichiarato poi che la persona della vicenda ha continuato a riprenderlo da un centimetro, come se fossi un animale in gabbia o un oggetto. Quindi ha spiegato che lui non sarà mai maleducato con i fan veri. Al contrario, con le persone che ritiene maleducate, non smetterà di reagire. Non è la prima volta che Yaman finisce per essere chiacchierato per simili vicende. Il punto è che alcuni suoi fan sono morbosi all'inverosimile e invadenti, appunto maleducati. Chi è vicino alla Star Trek e migliaia di suoi supporters che l'hanno visto negli anni raccontano tutti la stessa versione. Cioè che Ken è una persona educata e disponibile. E che quasi sempre, impegni e situazioni permettendo, concede selfie e autografi. Il problema è che ogni tanto cede alle provocazioni di qualche persona che ha poco tatto e provoca per il gusto di farlo. Ed è qui che a volte scatta il patatrack. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto. Grazie per la visione!